La collezione nuova disegnata per l'800 dà la sua massima vigorosità proprio nelle forme tonde molto sinuose ma allo stesso tempo anche molto corpose. L'antina in effetti è un'antina di forte spessore, 30 mm di spessore. La possiamo avere sia liscia ma la possiamo avere anche fresata canettata. Tutte e due però si contraddistinguono soprattutto per un denominatore comune che è la parte iniziale dell'anta che fa sì che sia molto sinuosa, molto bombeggiante. Siamo un po' partiti da un'ispirazione un po' mediterranea. Siamo un po' ispirati ai nomi dei venti. Levante per quanto riguarda il modello canettato e Etesia per quanto riguarda invece il modello liscio. Il vento perché? Perché il vento quando ci è di fronte diciamo alla battiglia del mare fa quelle specie di piccole undicine che richiama proprio l'anta. Il colore stesso è proprio quello che dà la sensazione di trovarci su una battiglia vicino al mare. Abbiamo preso anche la breccia sarda che ha questo colore molto sabbioso insomma per fare proprio un sapore unico che sia un po' un sapore mediterraneo dei materiali etici cioè puri veri. Infatti tutte le cucine del 800 sono tutte quante in legno massello sia la scocca e soprattutto le ante e da qui è stata fatta una ricerca sulle tinte. Abbiamo preferito in questo caso qui abbinare un frascino spazzolato e levigato e con questa specie di patinatura cerata che dà questo colore un po' sbiancato come un tronco in riva al mare che è sbiancato dall'erosione del mare. Ho abbinato appunto il marmo e il breccia sarda che ha dei colori secondo me bellissimi. Anche questo qui è patinato spazzolato con una finitura leggermente cerata non è né troppo opaca né troppo lucida leggermente cerata. Per concludere abbiamo cercato di fare anche questa laccatura effetto molto settoso quindi molto molto morbido proprio per enfatizzare le forme. Io lo chiamo una cucina XL cioè una cucina che allo stesso tempo mi può dare sia sviluppo verticale che sviluppo orizzontale. Se voi osservate la cucina siamo intorno ai tre metri di altezza e se volete guardare le ante se benché siano in legno non hanno problemi di struttura. Stessa cosa con le ante completamente in marmo. Quando si ha a che fare con materiali nobili come il legno come il marmo e tutto quello che ne concerne la lavorazione artigianale che loro hanno si va a fare un connubio tra eleganza praticità e durabilità nel tempo. Trasmettono quello che è del loro valore artigianale a un pensiero anche industriale.